Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Pedro Bianca alla Fiorentina Il trasferimento però sarebbe saltato nella notte Il proprietario del West Ham avrebbe infatti cambiato idea e bloccato la trattativa Nonostante l'offerta da 10 milioni di Viola e il sì del giocatore Intanto oggi la Fiorentina tornerà in campo per la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino Nessun turnover per Pioli che in attacco potrebbe però riservare la sorpresa a Muriel Che potrebbe esordire nel tridente con Chiesa e Miraias al posto di Simeone A centrocampo vicino a Benassi e Veretù ballottaggio tra Norgaard ed Edimilson Tutto confermato invece in difesa con i titolarissimi e l'affonto tra i pali Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola